Buon pomeriggio a tutti quanti, vi invitiamo ad assistere al flash mob che verrà fatto da super mamme che ballano insieme ai loro bambini per l'evento Baby Wearing di Mom on the Go in collaborazione con i consulenti Baby Wearing, Alessandra Caliolo, Irene De Piero della Baby Wearing School e in collaborazione con Alessandra Forza, consulente Baby Wearing della Baby Wearing School ed insegnante Baby Wearing Dancing. Buona visione a tutti! Buona visione a tutti! Buona visione! Buona visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti